È molto importante aver organizzato una giornata di questo tipo perché è importantissimo che ci sia un confronto tra le diverse realtà regionali sulla disponibilità della cannabis per uso medico perché comunque ogni regione ha in qualche modo deliberato, in modo diverso e quindi un confronto su questo argomento lo riteniamo molto sorrillevante. L'Italia è stato uno dei paesi che con il decreto del 2015 ha posto la carne a bisaduto terapeutico a carico del servizio sanitario nazionale per alcune esigenze di trattamento e quindi è molto importante anche dal punto di vista di sanità pubblica che sulla base delle migliori evidenze scientifiche anche questo tipo di trattamento sia derogato ai pazienti. Ed è normalmente molto importante, ed è questo uno dei compiti dell'istituto di sanità che è stato attribuito dal decreto, quello del monitoraggio dell'uso e della sicurezza di questi prodotti perché sappiamo poi che nella pratica clinica corrente sorvegliare in maniera adeguata questi prodotti e soprattutto appunto sulla base delle evidenze scientifiche che si sono accumulate è molto importante per la salvaguardia della salute. Grazie Grazie Grazie